Sicurezza, rapine stabili rispetto al pre-pandemia, in calo, furti e spaccio, revocata la licenza a quattro locali. Nuovi laboratori e aule all'Istituto Buzzi, lavori finanziati dalla provincia, al via la prossima settimana. Festival di settembre, Piazza Duomo, con capienza aumentata allo studio, uno show di fuoco e acqua durante il corteggio. Buon pomeriggio dal telegiornale di TV Prato. In apertura parliamo di sicurezza e contrasto all'illegalità. Se ne è discusso ieri sera, parliamoci chiaro, ospite il prefetto di Prato, Adriana Cogode, che ha stilato un belancio dei reati in città. I controlli eseguiti dalle forze dell'ordine hanno portato anche alla chiusura di quattro locali frequentati da soggetti dediti ad attività illecite. Vediamo. Furti e spaccio di droga in calo, stabili le rapine. E' la fotografia dei reati in città che emerge dai dati forniti dal prefetto di Prato, Adriana Cogode, intervenuta ieri sera al settimanale di attualità, parliamoci chiaro. I dati sono riferiti al 2022 e il raffronto è stato fatto con il 2019, dunque con il periodo pre-pandemia non condizionato dagli effetti delle restrizioni. Nel 2022 si sono registrati 5.011 furti, 200 in meno rispetto al 2019, mentre i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati 189 rispetto ai 276 del 2019. Stabili le rapine, 221 in entrambi gli anni. Questo andamento è un andamento che poi ci dice sostanzialmente che questi fenomeni sono anche fenomeni che vanno un po' a flussi, nel senso che ci sono dei periodi di maggiore ripetitività di fenomeni come soprattutto furti che dipendono dalla stagione, dal fatto che si sappia che le case vengono lasciate vuote. Cioè ci sono tutta una serie di circostanze che possono determinare più o meno l'intensificazione del fenomeno. L'attenzione è altissima, il lavoro delle forze di polizia è altrettanto forte e impegnativo, anche i risultati sono buoni perché i numeri del rapporto tra le denunce e poi le persone effettivamente arrestate e consegnate alla giustizia sono numeri buoni. Dopo il serraglio oggetto negli ultimi mesi di una serie di controlli straordinari eseguiti in seguito alle segnalazioni di residenti e commercianti, l'attenzione delle forze dell'ordine è concentrata in altre zone della città, soprattutto del centro ed intorni. Nel mirino anche barre locali frequentati da soggetti dediti ad attività illecite. La piazza Duomo, sicuramente, piazza Ciardi, piazza Lippi, la zona soccorso, queste in questo momento, la stazione centrale, via Pomeria, piazza San Domenico, sono le zone centrali, abbiamo anche preso in considerazione i locali che sono presenti perché non è sufficiente fermare lo spacciatore o arrestarlo, bisogna anche vedere quali locali frequenta questo spacciatore e chi dà a lui la possibilità di incontrarsi con persone. Sono stati fatti controlli serrati a cura della polizia, anche dei carabinieri, il questore ha adottato una serie di provvedimenti di sospensione e poi abbiamo in comitato proposto, a seguito della sospensione, addirittura la revoca della licenza. Per alcuni di questi locali. E già quattro di questi sono stati definitivamente chiusi. Mercoledì 19 aprile partiranno i lavori all'Istituto Buzzi. Si tratta di un intervento di adeguamento impiantistico funzionale che andrà a interessare alcuni locali della scuola allo scopo di aumentare la disponibilità e la qualità degli spazi didattici. Saranno realizzati due laboratori informatici, un'aula di biologia, un'aula di fisica. I lavori finanziati con fondi della provincia per un valore di circa 150 mila euro avranno una durata di 120 giorni e andranno così a completare la riqualificazione dell'impiantistica dei laboratori che rappresentano a tutti gli effetti una delle eccellenze dell'Istituto Pratese. Parliamo adesso di giovani, volontariato e terzo settore. Sono sei progetti vincitori del bando. Siete presente con i giovani per ripartire, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Quasi 30 mila euro di finanziamenti per i sei progetti dell'area di Prato. Vincitori del bando Siete presente con i giovani per ripartire, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 fondazioni bancarie della Toscana, fra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Riusciamo a fare da volano di progetti che vengono dal terzo settore e che si rapportano alla realtà sociale e soprattutto interrogano i giovani e la loro capacità di essere protagonisti. Anzi, io direi non solo alla loro capacità che sicuramente c'è, ma la possibilità che questo protagonismo si trasformi in concrete realizzazioni. I sei progetti vincitori del bando vedono coinvolte 27 associazioni, con proposte che puntano a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano, affinché rinnovino la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio, oltre che a facilitare il ricambio generazionale all'interno delle organizzazioni. Il volontariato vediamo che in questo momento soffre un po' di varie difficoltà legate anche al periodo della pandemia, soprattutto le piccole associazioni, ma anche legate un po' all'invecchiamento dei volontari. Ora è chiaro che la grande forza del volontariato sta anche nei pensionati, perché quando uno va in pensione può ha tanto tempo da dedicare agli altri. Però vogliamo anche dare un segnale per poter avvicinare anche il mondo giovanile al volontariato e le tre edizioni precedenti questo è stato raggiunto. Questa è una gran bella iniziativa che è possibile fare anche perché il sistema associativo del nostro territorio, coordinato in questo caso da CESVOT, CESVOT consente anche la presentazione di progettualità adeguate, professionalizzate e competenti che poi alla fine hanno il giusto premio, in questo caso con il finanziamento. Capienza di Piazza Duomo aumentata e uno show di fuoco e acqua in occasione della serata dell'8 settembre. Sono alcune delle anticipazioni sul festival Settembre Prato e Spettacolo illustrate da Francesco Fantauzzi di Fonderia Cult Art, che questa mattina è stato ospite della nostra rassegna stampa prima di tutto. Dopo articolo 31 Daniele Silvestri, Edoardo Bennato ed editors, il festival del settembre si prepara ad accogliere nel proprio cartellone 2023 almeno altri due artisti italiani, uno in particolare legato a Prato. Lo ha annunciato Francesco Fantauzzi di Fonderia Cult Art, soggetto organizzatore della manifestazione, ha prima di tutto la rassegna stampa ragionata di TV Prato. Sei giorni di concerti quest'anno in Piazza Duomo, sarà aumentata inoltre la capienza della piazza per garantire la partecipazione in alcune date di una maggiore presenza di pubblico. Quest'anno probabilmente avremo un aumento di capienza legato alla richiesta che c'è per alcuni artisti, tra cui ad esempio articolo 31, che stanno davvero già attirando tantissimo l'attenzione e siamo già a una quota molto alta di biglietti venduti, per cui probabilmente cambieremo un po' le posizioni della tribuna proprio per allargare la capienza della piazza. E novità in vista anche per il corteggio storico. Dopo il videomapping dello scorso anno sulla facciata della cattedrale, è allo studio uno spettacolo di fuoco e acqua per arricchire la serata dell'8 settembre. Tornando infine ai concerti dal vivo, Fantauzzi non nega l'interesse verso due nuove location della città, che potrebbero potenzialmente diventare teatro di nuovi show ed eventi live. Ti chiedo, un luogo del cuore che vorresti riaprire o inaugurare a Prato e Provincia con una serie di eventi salgati Fonderia Cult Art? Ce lo puoi dire? Ci sono due spazi attenzionati, che sono il Parco di Galceti e il Parco dell'Ippodromo. Sono due luoghi che secondo me si potrebbero prestare davvero alle iniziative legate alla musica, ovviamente con tutte le cautele del caso, però insomma sono due parchi molto belli in città che si potrebbero utilizzare. Farmacom, l'azienda farmaceutica consortile dei comuni di Montemurlo, Poggioaccaiano, Carmignano e Vernio, compie 20 anni e domani a partire dalle ore 9.30 al centro civico di Poggetto, Falcone e Borsellino celebra l'importante traguardo con un convegno sul tema la farmacia, presidio territoriale di sanità per i cittadini. L'appuntamento sarà aperto dai saluti del presidente di Farmacom, Roberto Natali. Le farmacie comunali, sotto linea Natali, rappresentano un presidio sanitario di prossimità di grande rilevanza che vogliamo sempre di più rafforzare. Una rete capillare di servizi vicine ai cittadini e alle loro esigenze di salute. Un ricco cartellone firmato da Ampi, Arci e CGL per celebrare il 25 aprile, festa della liberazione, incontri, dibattiti, mostre e anche il teatro. Si avvicina l'appuntamento con il 25 aprile, festa della liberazione dell'Italia, dall'occupazione nazifascista. Ampi, Arci e CGL, come gli scorsi anni, sono impegnati e uniti nel progettare una serie di iniziative per ricordare e onorare il valore dei partigiani e di tutti gli antifascisti. Il calendario congiunto contiene spettacoli teatrali, incontri, dibattiti in città, ma anche in Vallata e nei comuni medicei. A Prato si comincia venerdì 14 alle ore 21, in replica domenica 16 alle ore 18 al Teatro Magnolfi, con lo spettacolo teatrale di Visa, tratto dall'omonimo romanzo di Piero Ianiello, messo in scena dalla compagnia del regista Mike Ricci. Venerdì 21 alle ore 18, nel Salone del Consiglio Provinciale, in Palazzo Banci Buonamici, si terrà l'incontro con il giornalista e scrittore Gad Lerner, che avrà al centro il Memoriale della Resistenza Italiana Noi Partigiani, progettato dall'Ampi Nazionale e curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi. Nell'ingresso del Palazzo della Provincia, sempre in via di Casoli, dal 21 al 25 aprile, verrà allestita la mostra 25 aprile, liberi da chi? Da cosa? Invitiamo davvero i cittadini a venire a vedere, perché è un modo anche di puntualizzare, di fare un pochino il focus su questo 25 aprile, ma non solo, su che cos'è il 25 aprile, data che ricorda un anniversario della liberazione e che vogliamo che sia ben presente da cosa ci siamo liberati e da chi ci siamo liberati. Tra gli appuntamenti da ricordare nel giorno del 25 aprile, la marcia insieme in Calvana con le Bandiere della Pace, promossa dai circoli Ampi Arci di Prato, Calenzano e Campi Bisenzio. Il calendario dettagliato delle iniziative è sulla pagina Facebook di Ampi Prato. Tutti gli anni bisogna ricordare il nostro passato, e fare di tutto per non ritornare a quel periodo. Quest'anno in particolar modo ricorre il 75esimo anno della nostra Costituzione, che è stato il risultato più alto della resistenza e della liberazione. Il Consiglio di Amministrazione di Chianti Banca ha approvato il progetto di bilancio 2022, chiuso con un utile netto di quasi 41 milioni. Si tratta, sottolinea l'Istituto di Credito, il più alto mai fatto registrare dalla banca e superiore di oltre 32 milioni rispetto al budget preventivo nell'anno. In particolare, Chianti Banca evidenzia la riduzione costante e sensibile del rischio di credito e il consistente rafforzamento patrimoniale. In netto miglioramento gli indici di solidità patrimoniale e anche gli indicatori di redditività fanno segnare una crescita decisa. Prosegue il sostegno a famiglie e imprese con oltre 240 milioni di nuove erogazioni, afferma l'Istituto di Credito. E adesso siamo alle previsioni del tempo, come di consueto ci colleghiamo con il Consorzio Lamma per sapere il tempo per oggi ma anche per il fine settimana. Una buona giornata a tutti, iniziamo dal satellite, satellite che ci mostra la perturbazione che ci ha interessato durante la notte, che scorre verso il sud-est, verso l'Italia meridionale, sulla Toscana permangono condizioni di variabilità con possibilità di qualche rovescio nel corso del pomeriggio. Nella giornata di domani arriva della nuova aria fresca e instabile dal nord atlantico che va a interessare il Mediterraneo e porterà condizioni di instabilità atmosferica anche sulla nostra regione. Andiamo a vedere quindi la previsione per il pomeriggio di oggi, condizioni di variabilità con spazi di sereno sulla costa centro-settentrionale ma anche con schiarite su quella meridionale e sulle zone interne invece avremo della nuvolosità variabile con possibilità di qualche rovescio sparso. Nel corso della giornata di domani abbiamo detto assisteremo a un peggioramento, il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso coperto già in mattinata con delle piogge che interesseranno gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio qualche schiarita a partire dalle zone più occidentali della regione mentre rovesce temporali potranno interessare le province centro-meridionali, quindi province di Siena, Arezzo e Grosseto. Temperature stazionarie nei valori massimi intorno ai 14-17 gradi. Diamo uno sguardo infine anche alla giornata di domenica, tempo in miglioramento, cielo sereno, poco nuvoloso sulle zone costiere, qualche nuvola in più invece sulle zone interne con delle deboli piogge soltanto lungo la dorsale appenninica. Le temperature nei valori massimi sono previste in aumento fino ai 17-20 gradi. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione, una buona giornata. L'invito è quello a restare con noi, vi ricordiamo che alle 17 in diretta dal Duomo di Prato ci sarà la recita del rosario e a seguire trasmetteremo in diretta la messa feriale. L'informazione torna come sempre questa sera con il Tg delle 20 e 30, però vi consigliamo di seguire il nostro sito tvprato.it per essere sempre aggiornati. Arrivederci e buon pomeriggio.